Sto registrando, ok, io voglio fare uno scherzo a Sasha, dai tanti mesi che, non voglio parlare a forza perché non voglio che mi senta, è tanti mesi che programmo di farlo e non potevo farlo perché, vabbè, aspetta, cerco di spiegarvelo un po' meglio. Allora, sono diversi mesi che me lo chiedete che voglio farlo io, voglio fare lo scherzo dove dico a Sasha che sono incinta, potrei essere incinta, che devo fare il test perché potrei avere un ipotetico bambino, volevo farlo già da tempo ma non potevo perché comunque prendendo precauzioni avrebbe capito che sarebbe stato finito, quindi ho dovuto aspettare il momento giusto. E adesso, per me, potrebbe cascarci, nel senso perché sono più volte che in questo mese io faccio un battutino un po' stupide, un po' simpatiche dicendo che scherzo, però è un po' in questo mood che ogni tanto esco con questa cosa e lui ride, non ride, non si capisce bene che cosa abbia nel suo cervellino. Io ho sempre truncato la situazione dicendo amore scherzo, 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 però voglio provare per una volta a fingere che è vero. Non so che cosa succeda, so solo che io adesso lascerò la webcam accesa, ma devo? Perché non posso farvelo vedere in pratica, anzi ve lo faccio vedere così, raga sono troppo sgamo, cioè sono troppo forte, ve lo faccio vedere con una foto. Vedete che però la webcam ha un pallino bianco quando è accesa, quindi io sono munita di indelebile e sto colorando in maniera tale che lui non veda che la webcam è accesa, perché io ho pensato a metterla la videocamera normale, ma sarebbe troppo, cioè capirebbe, quindi mi sono inventata questa cosa. Ora è nero, dopo devo pulirlo perché non capirò nemmeno io quando sta registrando o quando non sta registrando. Ora spengo perché devo andare un attimo nel mood, ho trovato tipo su Google una roba tipo come far finta di piangere, una roba leggera, quindi entro un po' nel mood e poi lo chiamiamo qua, ci aggiorniamo tra poco. Aiuto. Ti amo, sappiamo l'amore che ti amo, nel senso, ti amo. E tra l'altro ringrazio vivo che ha dimenticato tipo una roba per le lente a contatto e boh, proverò a piangere con una roba del genere, non lo so, mi tocco un occhio, mi rovescio, non lo so. Ah, ok. Uno di qua? Ah, ok. Nascondiamolo. Ah, raga funziona. Non devo urlare. Allora, io vorrei che fosse serio ma nello stesso tempo un po' simpatico, nel senso non vorrei farlo mettere proprio a disagio perché comunque non sapendo che lui è uno scherzo non vorrei esagerasse con le parole, perché è vero che poi io posso evitare. Però non conosco nemmeno io la vera reazione di Sasha in un momento così, perché ci abbiamo sempre scherzato. Però, un attimino, mente locale, capisco, dico, c'è un problema, ha un ritardo, bla bla bla, e poi vediamo come si sviluppa. Cioè, non lo so. Aiuto. Adesso mi mando un whatsapp. Ciao amore, quando puoi venire un attimo in camera mia, per favore, mi aiuti una cosa. Ok, whatsapp non ha la connessione da 16.37 sulle 17.04. Speriamo che visualizzi. Non devo stare qua a mezzo ora, tipo. Aspetta, muoviamo un po' qua. Non visualizza, raga. Il mio piano è fallito. Tra l'altro c'è la donna di pulizia che sta pulendo. Rende tutto ancora più realistica la cosa. Non visualizza. Sono fregata. E tra l'altro non vedo più il puntino, quindi anche io non capisco se sta registrando o no. Devo riuscire a farlo mettere vicino al microfono. Perché non so dove si siderà lui. Vabbè, al massimo lo alzi. Arrivo. Ciao amore. Ciao. Dima. Dove vai? Al mio gattone. Ciao. Sei carino con un gatto. Cosa hai fatto? Non ho mangiato la nutella? Non ho mangiato la nutella. Cosa hai fatto? Stavo giocando ai Pokémon. No, quando fai così sei strana. Tipo inizia a dire delle scemenze. Sì, ho comprato. Fai tutte a due, è un nuovo. Che cosa? Dai che sto facendo un video di là. Cosa c'è? Che video stai facendo? In realtà lo sto editando, un vlog. ti rendi conto che perdi i peli? È un gatto. No, no, gli altri non perdono così tanti peli, cacchio. Sembra anziano e sto volando. È un po' anziano. Come se io ti facessi così e volassero capelli. Non ci capisci? Insomma. Ma che ti amo, volevo stare un po' con te. Non me lo dici mai, ti amo, non mi dici mai che voglio stare con te. Soprattutto di giorno quando sei in camera a registrare i video. Ma stai stupido. Ti ha anche ciò peri nell'occhio. E ti metti lo scotch sulla bocca? No, non lo so. Sei scema. Potrebbe esserti un problema. E vedi? A me fa non c'è molto da ridere. Un secondo? Cioè nel senso... Non capisco, sei felice o sei triste? Ti sto facendo da psicologo? Cosa c'è? Ti sto facendo da psicologo? Non lo so. Mi dica i signori, non capite? Non lo so. Non lo so. In pratica, tipo, noi abbiamo... Ci bevi tu i gatti qua? No, quelli io. I gatti nell'acqua. Cioè, nel senso che... Sto parlando di una roba seria. Io sto bevendo. Allora, in pratica... Aia, mi sono fatta male. Nel senso che... Non ti fanno fare le tue storie. Ma che cosa c'entra? No, nel senso che... Cioè, Zack, i gatti... Eh. Ehi... Mia madre. Cosa c'entra tua madre? Cosa c'entra? Cosa c'entra Zack e i gatti? Allora, facciamo così. In un universo parallelo. Mi stai facendo paura, comunque. Pornando a se di me ne dici no. Perché? È Snoopy? Cosa stai guardando intorno? Ci sono delle telecamere che mi stai prendendo per il culo. La mia... Mi sembra stupida. Cioè, non parli mai così. Cioè, amore, vi un attimo, è ancora importante. La mia... La mia camera è nello zaino. L'ho lasciata per Disney. Allora, per una volta vedete una cosa importante? Sì. Non ho malattie strane. Ah, meno male. No, allora, ascoltami. Sono seria. Allora, non finisci i spazzoli dopo. Ma non parli! Ma cosa vuoi? Allora. Nel caso, non sto dicendo che sono sicura, eh. Tra due anni. No, ho già capito. Inizia a vedere delle storie come in Uganda. No, eravamo in Uganda. Non me lo ricordo dove eravamo. Etiopia. Vabbè, uguale. Allora, metti che... No, no, no. Metti caso cosa? Allora, un giorno io mi alzo e ti dico, amore... È una barzelletta? Allora, una barzelletta. Ci sono Sabrina e Sasha che un giorno Sabrina esce dal bagno e dice, C'è, amore, devo dirti una cosa? Sì. Eh, tu cosa pensi? Se esco da un bagno e ti dico, devo dirti una cosa... Ho cagato. No, amore! Una cosa un po' più carina. Quando esco dal bagno e ho cago. Sì, ma tu sei un mazio. Cosa vuol dire? Allora, prima non cagano. Allora, dobbiamo fare un... Prima di tutto un mignolini giurello. Non giuro una cosa che non so. No, 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 non ho ancora detto niente. Dammi solo un mignolini giurello. Non puoi giurare una cosa se non la sai. Devi dirmi solo... Mi ami? Sì. Ok, mignolini giurello che mi ami. Ah, ok. Non ti ho tradito né niente, non c'entra niente di questa cosa. Anche perché se vuoi dire un sogno e tu arrivi un pattone e ti rompo. Non ti ho tradito! Però vuoi rimanere con me, in generale. Ma chi? Tu. Se non hai fatto niente di male, sì. Non ho fatto niente, promesso. Mi stacchi sto coso. Ma no, promesso che... Ok. Metti che... Ripeto, non sono sicura al cento per cento. Ridi? Scusa ridere, sei quello che ho capito. Ho detto a me? Eh, ci da un bagno dopo che hai pisciato. Si dice fare la pipì. E? E? Ho capito. E? E. 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 E cosa? Eee! Dammi le prove. No, 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 infatti è una cosa ipotetica. Sto dicendo, io domani, o ieri, vado in bagno a fare la pipì. Ipotetica! Non sto dicendo che è successo. Sì, me lo dice ogni cacchio di mese. Una volta al mese c'è almeno una sveglia dove dice Sabrina mi dirà che vuole avere un figlio. Ok, facciamo che questa sveglia non c'è, ma io ogni mese ti dico non sei padre, giusto? Sì. Lo dico ogni mese. Sì. Ok, questo mese te l'ho detto. Che non sei padre. Eh, te l'ho detto. Che non sono un padre, volevo dire. Vedi sì. Questo mese, nell'ultimo mese. Ma non lo so a te quando ti vengono le cose. Vabbè, però te l'ho detto che tu ti ricordi negli ultimi tempi? Forse sì. Ok. Metti che è tipo forse no, però ripeto. No, amore, non sto dicendo che sta... Quello, sto dicendo... Stai attenta. Lo so. Però ho sbagliato una cosa. Senti, non voglio... Ho sbagliato... Ho sbagliato, ho pisciato nella vasca invece che nel gabinetto. Ho sbagliato. Che cosa vuol dire? Allora, vedi se è un cesso o una vasca? Cosa vuol dire? Che errori devi fare? Nel senso che... Allora, tu non sai come funzionano le donne. Sì che lo so come funzionano le donne. No, ma fa parlare, dai. Amore, mi stai mettendo in agitazione. Ma tu mi metti in agitazione. Allora, noi abbiamo detto che tra un anno, no, look un mese. No, tu l'hai detto. Io non ho mai confermato. Però io l'ho detto. Tu l'hai detto, non io. Eh, non l'ho detto. Allora, io dico, no, look un viaggio in... Messico. Eh, che? Allora, non ti sto dicendo che è sicuro. Ti sto dicendo, se per caso fosse che io, questo momento, oggi, 17 novembre, io sia in ritardo di qualche giorno. Eh, ok, sì, come sempre. No, in realtà non è mai successo. Ma, vabbè, la parola della mia subcoscia funziona bene. Come sempre. Ecco, tipo, e ti dico, se io ti dico, sei tardi una settimana che è strana. Ma, non ho capito, sei incinta o no? Ti sto dicendo in un universo parallelo. Se io... Ma non puoi... Io voglio dire una cosa. In questo... Che cosa? Allora, se io in questo momento, ipoteticamente fossi incinta... Se io in questo ipotetico momento fossi in Messico... No, dai, sono serio, amore! Senti, io sono serio, non parli, non capisco quando parli. Sembra un cruciverba. Ok, ok. Cioè, nel senso che tu non puoi mai essere sicuro la prima volta. Nel senso che per essere sicuro devi provarlo più volte. Chiama Andrea e fate appoggiare l'orecchio in pancia e senti. Questo lo senti, nel senso... Vabbè, metti che io abbia fatto un test. Sì. E fosse uscito positivo. E tu l'ho anche chiesto. Tu l'ho anche chiesto, hai fatto... C'hai delle prove o no? Lascio stare le prove. Se io in un universo parallelo... Vedi che vai indietro, cioè... Se io in un universo parallelo l'avessi fatto e fosse positivo... Eh. Tu cosa... Non sto dicendo che così... Sto dicendo... Se lo fossi... Mi stai facendo rimanere male. No, vabbè, farei... No, torna qua, dove vai? Amore? Amore, subito. Amore! Non è una cosa bella quella che ti sto dicendo... Cioè, nel senso... Non è che puoi lasciarmi qua. Ma io avevo già preparato lo zaino. Amore, non sei divertente. Ti sto parlando per una volta seriamente. Se mi stai vicino, ti direi grazie. Non so, avrei bisogno di riflettere. A riflettere cosa? Sul... Cioè, riflettere sul... Al 90% sono incinta. In un universo parallelo? No, nella realtà. Mi ha detto migliori in giro. No, che ti amavo. No, poi hai detto che stavi con me. No, che stavo con te. Ok, e? Io e te. Non io e te e gigio. Magari è gigia. No, cosa? No, poi è pure femmina, così se cresce e diventa... Che si fa... Si fa... Incaprettare e io divento geloso. Quindi va bene per te. No, meglio maschio allora a sto punto. Però va bene per te maschio. Non eravamo arrivati a un punto del genere. Tu mi dicevi solo, lo facciamo, proviamo. Eh, abbiamo provato. No, no. Tu hai voluto... No, mi hai tradito. Hai tradito la mia fiducia. No. No, dai, che palla. Adesso cosa chiusi agli altri. Perché ti pensi... Poi rimani nove mesi a casa, rompere i coni, mangiare il cioccolato e già lo fai. Sempre. Quindi adesso userai la scusa che sei incinta per mangiare... Allora... Già non ho tempo per me. Non ho tempo di andare in palestra e ho tempo di guardare un bambino. Ho capito, ma tanto è la donna che pensa al figlio. Ma io, capito, io me sciacco le palle. Dico sì, è là, è là, va bene. È come un gatto, guarda. Ciao bambino. No. Come stai? Eh, bello. E poi gli faccio così, ciao, tanto pensa alla mamma. No, nel senso che... Quello. Cioè nel senso che poi prendiamo una babysitter e una che ci fa davanti a casa. Nell'universo che non parallelo questo, tutti vogliono avere un figlio. E Sasha non ancora vuole un figlio. Perché Sasha non ancora vuole un figlio? Perché è difficile. E non è il momento. Ok, se questo fosse il momento perché ormai è successo, che cosa vuole fare Sasha che non vuole avere un figlio? Se ne può fare un altro dopo. Quindi adesso io che cosa dovrei fare? La risposta non è prendermi a pugni nella pancia. No, così no. Però... Ma non lo so. Ma è ovvio che è come dire, vuoi salvare un gatto randaggio? Sì, ti dico. Ma parliamo di un bambino? Ma un bambino è una creatura. Cioè è come un gatto per me è un bambino. Cioè nel senso, non è un giocattolo. È come se fosse una persona o un gatto. Cioè va tenuto e curato. È 11 gatti. Adesso un bambino è come se fossero 18 gatti. Un bambino vale 5 gatti almeno. Cioè questo l'ha detto Giuseppe. Cioè è una statistica di Feltrui. Ha detto 5 gatti sono almeno un bambino. Quindi è come se voi aveste due bambini. Circa già adesso. A parte che Giuseppe per me si droga. Mi sarebbero tre bambini. Amore mi sto sentendo male. Cioè veramente. Ma cosa vuol... Lo so che te sei felice perché non vedi l'ora di essere grassa. Io non ho ancora. Ma tu non devi essere grasso. Lo so. Ma cosa vuol... Ma non ti voglio vedere grassa. E non vuoi un bambino adesso ancora. Che cosa mi abbracci? Non mi dire... No cosa. Che cosa mi tocchi? Che mi arrivi e mi dici sono incinta. No no. E domani arrivo e mi dico c'è un'altra? Ma ti sembra la stessa cosa? No ma un bambino è una cosa... Capito che... Capito che entra nella tua vita è come un treno. È come se tu dicessi che c'è un'altra. E tu boom ti senti appena investita. Non capisci. Perché a te è una cosa che vuoi. E io ancora no. E quindi è come se boom ti passa un treno addosso e ti dici ah ho cesso. Una buona possibilità che tu diventi padre. Ma non è una cosa negativa. Ma più avanti. Ma è un anno che te lo dico. Un anno è un anno. Adesso no. Cosa faccio? Butto via? Cosa? E lo butto. Una focaccina. Ma non è convincente. Così poi direi le tue mica l'ho convinto con una focaccina. Comunque che mangio questa focaccina. Ma non so se li te lo piangono. Te lo giuro. Ma neanche io. Ma neanche io. Ma che siamo? Ma non cambierebbe molto tanto. Stiamo cambiando casa. Una casa con una stanza in più. Faccio io. Capito? Ma è una cosa bella. Non è una cosa brutta. Non ho detto che è una cosa brutta. Ho detto che è una cosa che in questo momento non volevo ancora. Facciamo un figlio a 40 anni. Non è che c'è scritto negli annali che arrivi a tot anni fa. Ah ho sbloccato il nuovo livello figlio. Tu sei una su Fortnite. Che arrivi a livello 30 e sblocchi la skin bambino. Ma mi piacerebbe però. Sicuramente mi piacerebbe però. Io non ti ho mai detto no non lo voglio. Mai 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 mai. Mi hai detto lo vorrò. Quindi non è che cosa ti dovrei dire di brutto. Niente. Ovvio che sarei contento però. Però era presto adesso. E quindi non ti so dire un'alternativa. Ma cacchio. Ma cacchino. Non la voglio neanche quella. Hai finito di grattarti mi rispondi. Scusami se sono agitato. Quello non c'è nel senso è andata bene. Cosa devo dire ammazzalo. Cosa devo dire lanciati da un ponte. Cosa devo rispondere. Ho pensato che ti metti a urlare come un pazzo. E cosa avrei risolto? Che urlando in pancia quello lì se ne andava. Sta cazzatella. Urlando si. Devi cantarmi bene un tuo figlio in la pancia. Vabbè vuoi andare di là se vuoi. Ho detto che lo... Ma se ti ho risposto... Ma te non ti mi chiami che tu sei una donna proprio eh. Ti ho appena detto. Che arrivi con un'altra. No. Ho fatto un esempio. Che esempio di me. È un paragone. Ma tu hai appena detto che c'ho un figlio a me. Ero per me e ci provo a tenere di là. Ma che be... Ma te che forse hai un figlio. Ok e tu hai detto se ipotizziamo che c'è. Ho detto che lo tengo. Si ma io devo anche che arrivi con un'altra che fai messico che fai lo zaino e... Ho detto che sono ipotesi. Ipotesi non vere ovviamente. Quindi sei felice? Forse. Guarda amore. No se non viene via. Guarda vieni qua. Stavi registrando. È uno scherzo. Dai che tocca a gradosso. No vieni qua. No. No aspetta. No amore torna qua un secondo. No amore. No. Ok. Mi hai fatto sudare madonna. Guarda non parlo. Ho bisogno di tempo per riflettere. Bene. Adesso so che posso avere un figlio senza che lui mi lasci e che mi uccida. Stai un ragazzo con le tue stesse mani. E adesso mi dai 100 euro perché mi sto spaventando. 100 euro. Adesso mi dai 100 euro. Ma con una focaccia mi vuoi ricomprare. Tutto il porco del mondo. Con una focaccia mi vuoi comprare. Amore saluta. Focaccia. Se vuoi due amore. Ti amo. Vieni qua un attimo. E' maggiore di zucchero e mangi la focaccia salata. Diventerà zucchero. E con un paio di figli ti immagini se quando lo facciamo arrivano due gemelli. Cos'è quella faccia? Quando dirò sì. Loro vogliono sapere tra quanto diventano zii. No mi ha sentito destra che ho detto. Da quant'è che stia registrando 28 minuti. Ti amo. Ti amo. Vabbè comunque tutto questo abbiamo scoperto che Sasha vorrà un figlio quindi tra un po' arriverà. Ma stai pepeggiando. Non devi fare uno scherzo. Ne volevo essere sicura così magari il prossimo mese ti posso dire. E ora è stato incinto davvero. Non ti torno con una tipa. Poi non scherzo. Non torni con una tipa. Non ti sono scoperto. Mi dimenticare. Grazie a tutti